E per di più ci aveva un buon lavoro Torna ad Anghiari, tovaglia a quadri, la cena toscana dentro le mura con una storia raccontata in quattro portate Dal 10 al 19 agosto il borgo della celebre battaglia di Leonardo celebra per dieci giorni la diciassettesima edizione di un evento che si inserisce tra le eccellenze della regione toscana Tra le novità di quest'anno l'adesione della Campagna Amica Noi di Campagna Amica Coldiretti forniamo i prodotti che sono rigorosamente a chilometri zero per cui il menù, penso ad esempio alla chianina che verrà somministrata, è del territorio aretino Il territorio viene esaltato sia per il cibo che per la storia Tovaglia a quadri proporrà dei racconti legati alla memoria del borgo, il tutto condito da una prelibata cena con i prodotti locali, stornelli toscani ed abitanti del luogo che interpreteranno i vari personaggi Gli autori presenteranno lo spettacolo dal titolo Sarà stufa, una narrazione legata ad un oggetto rimasto chiuso 60 anni in cantina come metafora della nostra economia E' la metafora del boom economico, boom economico che non c'è più, siamo dinanzi a una crisi che si sta paventando come fosse una guerra Perché la ricaduta è anche su un piccolo paese come se fosse una guerra, un bombardamento Il nemico è sotto gli occhi di tutti, è la perdita di quello che è il nostro potere d'acquisto, quindi dei soldi, di tutto quanto, di un modo di vivere E la stufa è un oggetto per resistere, quindi recuperare quello che era la nostra vecchia identità, vivere in maniera più sobria, in maniera più comunitaria Anche con sacrifici, chiaramente una parte della popolazione è disposta a farli e l'altra no E quindi è di nuovo una guerra per noi stessi e speriamo che abbia una soluzione come sempre ironica e sorridente come è il nostro stile